La Puglia anche quest'anno resta la meta preferita per le vacanze estive. Dopo il boom della scorsa estate, nonostante la piena emergenza sanitaria, si prospetta un'altra stagione all'insegna del tutto esaurito. Destinazioni turistiche prese di mira alle località balneari del Gargano e del sud della Puglia, soprattutto della costa dei Trulli. In provincia di Foggia le mete più gettonate sono sempre Peschici e Vieste, dove fioccano prenotazioni in gran parte dalla stessa Puglia, ma anche da Basilicata, Abruzzo e Campania. Sempre meno, invece, i turisti del Nord Italia, che tuttavia ai caotici mesi di luglio e agosto preferiscono giugno e settembre. A fotografare le preferenze degli italiani è uno studio condotto da Astra Ricerche per la Camera di Commercio di Bari. Dalla ricerca è emerso che i vacanzieri, per vivere meglio i loro viaggi, organizzano tutto con largo anticipo. L'Italia è preferita come meta turistica dal 71,5% degli italiani, e in particolare degli over 55. Nell'epoca post-covid, gli italiani continueranno a preferire la sicurezza, scegliendo come prima opzione i viaggi in luoghi a bassa pressione turistica. Per quanto riguarda la scelta delle strutture in cui alloggiare, la preferenza va a quelle pet-friendly, in cui vengono accettati cani e gatti. Nella scelta della vacanza, quasi tutti pongono al primo posto relax e benessere, e subito dopo l'aspetto enogastronomico e il contatto con le comunità locali.